Sono passati dieci anni dal naufragio della costa Concordia, la nave da crociera che il 13 gennaio del 2012 urtò le scole, una gruppo di scogli vicino all'isola del Giglio riportando un grosso squarcio lungo circa 70 metri sul lato sinistro e dopo l'impatto la navigazione si interruppe bruscamente, sbandando, la nave si incagliò sul fondale fino ad affondare parzialmente. La situazione fu aggravata da un forte ritardo con cui fu lanciato l'allarme. Nel naufragio morirono 32 persone, tra queste anche una giovane sposa biellese di 32 anni, Maria d'Introno, una tragedia che lasciò ammutorita l'Italia intera. Riascoltiamo la testimonianza di un altro biellese che fortunatamente si salvò con la sua famiglia. Sono Luigi di Biceglie, ero a bordo della costa Concordia, abbiamo avuto una brutta esperienza, io ero con la mia famiglia. Niente, è successo che verso le 9.15, 9.20 abbiamo sentito un raschiare della nave, ci siamo presi tutti paura perché comunque volava di tutto e siamo saliti subito sopra. Il personale ci diceva di stare tranquilli che c'era soltanto un guasto elettrico, ma noi per fortuna non ci abbiamo molto creduto, siamo andati a recuperare i nostri giubbottini salvagente e siamo andati sul ponte 4 dove poi dopo un'ora buona hanno finalmente dato il via al salvataggio della gente. Siamo scesi con le scialuppe dalla nave, siamo scesi in mare, solo che quella lì è stata la situazione più drammatica perché comunque tutto l'accalcarsi della gente perché ovviamente le scialuppe erano metà, si poteva usare metà delle scialuppe a disposizione perché l'altra metà non si poteva ovviamente usare, quindi tutti quanti volevano salire sulle scialuppe e abbiamo rischiato di fare una frittata perché tutti volevano entrare. Noi eravamo lì impauriti perché comunque non sapevamo cosa sarebbe successo, tra l'altro non abbiamo visto un ufficiale, nessuno che ci venisse ad aiutare, c'erano soltanto i cuochi e la gente che lavorava dentro questa nave che sono stati poi loro i veri autori del salvataggio, perché comunque la nave era inclinata, quindi anche chi è responsabile di quello che doveva tirare fuori praticamente la scialuppa col ponte, l'ha tirata fuori un po', poi si è preso paura, è scappato, quindi noi siamo rimasti a Penzoloni con sta scialuppa e siamo scesi raschiando tutta la nave ed è stato veramente degli attivi di paura. Sono Stefano Bortignon, anche io ero a bordo della nave Costa Concordia, abbiamo vissuto un'esperienza incredibile, comunque possiamo raccontarla e volevo ringraziare tutti i soccorsi, tutte le persone che nell'isola ci hanno dato ospitalità, ci hanno aperto le loro case di vacanza, eravamo in 4000 su un'isola solitamente abitata da 700 persone e hanno fatto il possibile per darci una mano, per consolarci, per aiutarci in quel momento che è stato veramente critico.